Riflettori puntati sul divisionismo, la rivoluzione della luce che torna in città e non solo, avete sentito le parole della curatrice e quindi grazie a lei e a tutti i colori quali sono già arrivati al castello e tutti quelli che torneranno o verranno per la prima volta con delle nuove disposizioni. Si rispettano le regole e quindi nelle nuove regole dobbiamo parlare. Ovviamente, certo, chiaramente ci sono delle norme da rispettare per la sicurezza di tutti, prima cosa ovviamente sarà obbligatorio l'uso della mascherina all'interno del percorso espositivo, gli ingressi saranno contingentati, è fortemente consigliato l'acquisto del biglietto online sulla piattaforma TicketOne, i biglietti sono tutti emessi per fasce orarie, le fasce orarie durano 20 minuti, potrà esserci una sola visita guidata per ogni fascia oraria. Gli ingressi anche nella fascia oraria saranno contingentati, quindi man mano che arriveranno quelle 5-10 persone verranno fatte entrare poco per volta. Quindi, consigliamo, lo ripeto perché è molto importante, il biglietto può essere acquistato anche in biglietteria, però proprio per evitare assembramenti in biglietteria è fondamentale utilizzare la piattaforma TicketOne. È obbligatorio l'acquisto su TicketOne invece per i gruppi, i visitatori singoli possono acquistare il biglietto anche in biglietteria, per i gruppi, proprio per evitare assembramenti è previsto l'obbligo di acquisto su TicketOne. Le visite guidate, l'acquisto dei biglietti si fa sulla piattaforma, le visite guidate possono essere prenotate invece tramite l'ATL che fornisce questo servizio, contatta le guide per chi non ne disponesse e quindi fissa poi l'appuntamento con la guida in mostra. Sarà obbligatorio l'uso di whisper, di microfonaggio e trasmettitori per le visite guidate e quest'anno era già disponibile l'anno scorso la possibilità invece per le audioguide di utilizzare un'app scaricabile sul telefonino che quest'anno credo sia altamente consigliabile perché in questo modo si evita, naturalmente i device delle audioguide saranno sempre sanificati, disinfettati dopo ogni utilizzo. Comunque per chi preferisse utilizzare il proprio smartphone e quindi non utilizzare un device utilizzato da altri sarà possibile come era già previsto l'anno scorso scaricare l'app dedicata con l'audioguida. Ne approfitto per dire che dopo il lockdown, nel momento in cui era stata chiusa la mostra, avevamo allestito una visita virtuale della mostra online che è stata... Apprezzatissima anche quella. È stato un successo, adesso in vista della riapertura della mostra la visita virtuale è stata oscurata ma per non lasciare a bocca asciutta i nostri affezionati sostenitori abbiamo messo online la visita virtuale della mostra 800 in collezione, quella di due anni fa. Così nel frattempo, mentre si aspetta di rivedere dal vivo la mostra sul divisionismo, si potrà godere di quella di due anni fa. Di quegli altri sforzi, esatto, di due anni fa. L'ingresso è appunto, abbiamo detto, dei biglietti, ricordiamo le date... 24 ottobre e 24 gennaio, insomma, per San Gaudenzio, fino a San Gaudenzio, festeggeremo San Gaudenzio, speriamo con... Con altri numeri, ecco, di cultura. Le collaborazioni anche con la scuola e con il territorio siete riusciti fino a un certo punto a portarla avanti? Allora, ovviamente anche le visite da parte delle scuolaresche stavano andando molto bene, d'altra parte questa è una mostra ancora più di quella precedente che si prestava a un aspetto didattico molto interessante, quindi c'era stata una risposta importante. E' chiaro che adesso sarà tutto molto più difficile, noi abbiamo... intanto il numero, c'è anche un aspetto economico, mi rendo conto, perché chiaramente riducendo, dimezzando di fatto il numero di persone ammesse per una visita guidata, il prezzo della visita guidata sale. Quindi per questo motivo noi abbiamo previsto la possibilità per le scolaresche di noleggiare la app dell'audioguida a un prezzo scontato di 2 euro per venire incontro alle esigenze degli studenti. Beh, queste sono informazioni importanti, ma questa è la dimostrazione, insomma, si punta su nuovi stimoli, ma si danno insomma anche degli incentivi seri per affrontare o imparare anche attraverso... Anche il prezzo delle visite guidate è stato ridotto rispetto all'anno scorso, proprio perché in funzione del numero di persone ridotto dei gruppi ci rendiamo conto che sarebbe aumentato il prezzo a persona, quindi si cerca di venire incontro alle esigenze dei visitatori. Certo per le scuole sarà difficile, è un momento in cui già le scuole hanno i loro problemi a garantire l'accessibilità agli studenti, quindi mi rendo conto che le visite didattiche al di fuori della scuola probabilmente saranno difficili. Comunque noi siamo pronti ad accoglierli, anzi ci fa particolarmente piacere perché, insomma, il fatto che anche un pubblico giovane si avvicini all'arte e alla cultura è uno degli scopi della nostra associazione. No, dei laboratori sicuramente graditi, lo avete ovviamente testato due anni fa e riproposto per questo, quindi è un successo anche quello su quale puntavate senza colpe, insomma, adesso, dettate da altro. Quindi oltre alle novità di cui ci ha parlato la professoressa e a questi ingressi, gli incontri, che volti nuovi avranno e che colori avranno? Allora, gli incontri non avranno volti nuovi se non probabilmente l'ultimo, di cui però ancora, diciamo, non vogliamo svelare il nome. Io ci ho provato. Allora, noi prevediamo di recuperare proprio gli incontri che sono stati sospesi, diciamo anche immediatamente, no? Era proprio a ridosso dell'incontro sui restauri conservativi e che invece recupereremo il 12 di novembre. Il secondo sulla maternità di Previati lo recuperiamo il 26 di novembre e il terzo lo recuperiamo con il professor Simone Ferrari il 12 di dicembre. E quindi arriverà quello, ci vediamo al prossimo incontro con il Ferrari. No, abbiamo un quarto incontro, insomma, che vorremmo, diciamo, costruire intorno ad un tema importante, che è il tema della violenza sulle donne, della prostituzione, che è l'argomento, diciamo, che fa da sfondo a una delle opere venduta, che verrà proposta in mostra e che è nuova. Dico bene. Certo. Ce ne ha parlato prima la professoressa Quinsa, che di quest'opera. Dell'opera ha parlato lei e noi vorremmo organizzare proprio una conferenza su questo tema. Stiamo cercando di contattare una filosofa importante, che sono sicura potrebbe, che potrebbe davvero tratteggiare, insomma, un tema che non è naturalmente legato solo ed esclusivamente all'opera che viene proposta, ma è un tema di un grande ancora attualità legato a quello, a ruolo anche, che le donne, pensiamo anche proprio a questo periodo terribile anche del Covid, che ha visto ancora di più le donne relegate, che ha visto ancora il tema della violenza, che è diventato magari anche più nascosto, ma che invece ha avuto purtroppo davvero numeri molto elevati. Mi piacerebbe pensare che la Fondazione Circolo dei Lettori proponga, a conclusione di tutto questo percorso, una riflessione su questo e che lo proponga tutta la città per chiudere davvero un percorso così bello, così importante come quello che è stato alla base di tutto il percorso della mostra sul divisionismo. È bello così che la cultura non si fermi e riparta ogni volta da un punto zero, o che una nuova opera ci porti su strade nuove, quindi il gruppo di lavoro è sempre all'attivo. Sì, questa collaborazione è una collaborazione insomma che io ho sentito proficua, vincente, insomma mi è sembrato davvero di poter parlare, insomma che l'arte parla attraverso la letteratura, la letteratura si esprime attraverso l'arte, forma un cerchio straordinario che ruota intorno non solo alla bellezza, ma davvero ai temi che potrebbero, che coinvolgono anche la contemporaneità. L'arte e la letteratura ci parlano del mondo contemporaneo anche riferendosi a tempi lontani, ce n'è una dimostrazione dell'arte classica. In questo periodo Paola, attraverso appunto il circolo dei lettori, dice grazie a chi? Per queste collaborazioni e per altre? Grazie, beh è un grazie reciproco io credo. Assolutamente. In questo momento è così bello insomma pensare, insomma ci siamo incontrati anche quest'estate, cioè non abbiamo mai smesso di pensare come... Ci siamo sempre stati... Folli insieme a riproporre. No, per riproporre io spero davvero che questo percorso continui, che sia un percorso che faccia sì che tra l'altro, insomma, questo luogo meraviglioso della nostra città venga interamente restituito alla città, diventando proprio anche un polo culturale e il polo culturale può esserci non solo per una mostra temporanea, un incontro temporaneo, ma deve esserci una rete, un progetto intero che faccia sì che quel luogo diventi il luogo dell'arte, il luogo che parla la città e non solo che parla un territorio, ma che parla anche ad un territorio molto più ampio, molto più vasto, che è quello non solo della nostra regione, ma che oltrepassa i confini, e che io mi auguro davvero che il castello diventi questo. Contenuti e grazie che non mancano. Certo, poi dobbiamo ringraziare anche la Fondazione Castello che ci mette a disposizione gli spazi, noi li riempiamo di contenuti interessanti, devo dire, e al Comune che ci ha sostenuto, che ha sempre creduto nel progetto, che continua a crederci. Grazie a Paola per la nostra proficua collaborazione che continuerà senz'altro. È bella questa unione tra arte e letteratura che ha avuto successo, come hanno dimostrato le presenze dello scorso anno. E quindi... Beh, ma è quello che emerge poi dagli incontri o dalle proposte o dagli stimoli e dai suggerimenti. Si chiede la rivoluzione della luce perché non è solo una lezione, un incontro in un senso unico, è un dialogo e quindi viene reso bene questo all'esterno, ecco. E poi è bello pensare che non abbia una fine e che sia un percorso che continua, una strada che si è imboccata, è un cammino che ci porti davvero a continuare a dialogare, a sperare anche che sia il segno di una ripresa di un po', insomma, di tutto questo periodo così difficile, nel quale comunque siamo tutti ancora inseriti, ma che vorremmo anche in qualche modo, io credo di poter anche condividere il pensiero di Paolo, insomma, in questo momento, che sia un regalo anche alla città, che sia un modo per ripartire, per dire la cultura c'è, parla a tutti voi e regala anche momenti di, non di paura, ecco. Perché bisognerebbe venire per la prima volta o tornarci? Perché questo accadrà, i numeri saranno ancora più importanti. Beh, venire per la prima volta perché se non si è avuto l'occasione di vederla la prima volta, sicuramente è una mostra che vale la pena vedere, non lo dico io, ma lo dicono le persone che sono venute a vederla nella prima forma, nel primo allestimento, e quindi è sicuramente un'occasione per vedere delle opere importanti e per vederle inserite in un percorso sicuramente originale e che consente di capire che cos'è stato il divisionismo e che cos'è, ed è siccome un fenomeno interessante, credo che ne valga la pena. Venire per la seconda volta, lo ha detto prima la professoressa Quinsac, perché sicuramente le cinque opere che abbiamo inserito, oltre a essere delle opere di altissimo livello dal punto di vista artistico, sono opere tra l'altro di collezioni private, quindi che si ha poca occasione di vedere e si inseriscono perfettamente nel percorso scientifico e forse lo arricchiscono ulteriormente, quindi sicuramente vale la pena di tornare. Tra l'altro, a proposito delle cinque opere, vorrei ricordare che è stato realizzato anche un catalogo di queste cinque opere che sarà disponibile in mostra e che quindi costituisce un appendice al catalogo precedente. Ricordiamo ancora una volta le modalità di adesione, la preferenza ovviamente online e vale anche per le conferenze organizzate in collaborazione con il Circolo dei Lettori, occorre la prenotazione obbligatoria. Sono info, chioccio, la Circolo dei Lettori, Novara, ma daremo tutte le informazioni poi. Sì, presto saranno distribuiti online, anche cartacei, i volantini, col programma definitivo delle conferenze organizzate parallelamente alla mostra. Nel futuro? Nel futuro? Qualcosa, qualcosa in esclusiva per noi. Nel futuro continuate a seguirci perché sicuramente noi abbiamo un progetto interessante nei prossimi anni, a cominciare dall'anno prossimo. e quindi quello che vi posso dire è che ci sarà sicuramente il prossimo autunno, ovviamente compatibilmente con tutta la situazione. Ma noi siamo ottimisti, quindi speriamo che le cose migliorino e quindi noi eravamo già pronti per questo autunno e a questo punto l'appuntamento con la prossima mostra sarà per l'autunno successivo. e sicuramente sarà una mostra interessante, di analogo livello a quelle che l'hanno preceduta. Insomma, autunno e inverni caldissimi. Contiamo, ecco, a proposito di ringraziamenti e di territorio, è giusto anche ricordare il sostegno che ci hanno dato le aziende locali che hanno sostenuto la mostra e sulle quali continuiamo a contare, sul loro supporto anche per il futuro, che è stato importante e che penso però sia stato anche ripagato dal successo. Un abbraccio virtuale a loro e a tutti quelli che invece fisicamente torneranno ad occupare le sale nel castello per godere di questa rivoluzione della luce. Vive il divisionismo e vive il nostro territorio. Grazie. Buona mostra. Grazie e buonasera a tutti. Grazie alla prossima puntata. Grazie dell'ospitalità. Grazie.